Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Luba e oggi un nuovissimo video Get Ready With Me. Era un po' di tempo che non facevo un Get Ready With Me in cui ci trucchiamo. Per chi fosse nuovo di questo canale, io faccio spesso dei Get Ready With Me, che sono video in cui io mi preparo, generalmente mi trucco e parlo con voi di argomenti random. Sono proprio quei video in cui mi metto qua, mi trucco e parliamo di tutto quello che mi frulla nella testa. Ho fatto recentemente un Get Ready With Me, ma ci facevamo la tinta insieme. Quindi se non l'avete visto, ve lo lascio nelle schede informazioni, se vi va. Allora, partiamo subito. Io ho già fatto la base perché ragazzi, se parlo e faccio la base, ci sto veramente tipo 30 minuti solo per mettermi il fondotinta e il correttore. Quindi ho detto, vabbè, facciamo subito la base, che è la cosa anche un pochino più pallosa. Comunque, se siete interessati magari a sapere i prodotti che uso, se c'è qualcosa che vi piace in particolare, nell'info box trovate praticamente tutto l'elenco dei prodotti che ho utilizzato, dal primo all'ultimo. Ecco. Allora, partiamo subito. Per truccarmi gli occhi, utilizzerò questa palettina di Kiko che ho comprato un bel po' di tempo fa ormai, ed è dell'edizione natalizia. Questa qua mi piace tantissimo perché ha questi colori molto carini, quindi sugli occhi utilizzerò lei e vediamo un po' come va. Vi avvicino un attimo così magari vedete anche meglio. Ok, così dovrebbe essere un pochino meglio. Allora ragazzi, come state? Che mi raccontate? Fatemi sapere soprattutto anche da dove mi seguite, perché io sono molto curiosa di sapere da dove mi seguite, se mi seguite magari dalla Lombardia, dal Veneto o magari dalla Sicilia come me, perché sapete un po' tutti quello che sta succedendo in questo periodo e io sono veramente in ansia, non credo di essere mai stata così tanto in ansia in vita mia come veramente in questi giorni. Io sono purtroppo una di quelle persone che appena sente delle notizie negative praticamente tutti i giorni penso subito al peggio, però vabbè, mi devo far forza. Vedo che comunque le persone intorno a me sono relativamente calme, sono relativamente serene, i miei genitori ci trasmettono e a me e a mia sorella molta molta serenità nei limiti del possibile e quindi io di conseguenza mi sento un attimino più tranquilla. So ovviamente che quello che sta succedendo è orribile, è una cosa gravissima, però cerchiamo di essere calmi. Io in primis, mentre mi stavo facendo la base, stavo pensando un po' di cosa potevamo parlare in questo video, perché ho detto no, se gli faccio un pippone su tutto quello che sta succedendo, io mi prendo a male ancora più di quanto già non sono e poi a loro magari faccio passare questi minuti ancora in ansia che non mi sembra il caso, quindi cerchiamo di parlare di argomenti frivoli, banali, no banali no, frivoli e magari un po' divertenti. E ovviamente pensando, pensando, pensando mi sono venute in mente ovviamente delle cose che mi sono successe nella mia vita molto molto divertenti, in particolare in questo caso in realtà di divertente non è che ci sia moltissimo, però ve lo racconto. Oggi abbiamo fatto una videochiamata con mio fratello su Skype, perché lui adesso si deve laureare e si laurerà tramite Skype, stessa cosa mia sorella, proprio identica molto probabilmente. Pensando, pensando, pensando mi è venuto in mente il periodo in cui io sono stata a Roma, che ho vissuto a Roma, non so se lo sapete, magari ne ho parlato in questo video in realtà, però io ho vissuto a Roma per circa due mesetti e mezzo, non è tantissimo, ma vabbè, a cavallo fra il mio quarto e il mio quinto anno, sono andata a Roma io per fare un corso di figurino, per imparare a disegnare i figurini di moda e c'era questa accademia che faceva appunto questo corso estivo, io mi sono iscritta, felicissima, veramente super super emozionata, mi sono iscritta e poi sono andata a vivere per appunto quel periodo a casa del mio fratello, lui mi ha ospitato e quindi tutto molto tranquillo. Tutti i pennelli che ho sono praticamente sporchi, fantastico. E quindi nulla, mio fratello mi ha ospitato, io sono partita appunto verso, penso, inizio luglio e io mi ricordo che praticamente avevo lezioni da lunedì al venerdì, sabato e domenica penso che ce li avevo liberi, se non ricordo male, e li avevo praticamente dalle otto e mezza del mattino, dalle otto comunque molto molto presto, fino all'ora di pranzo e io mi ricordo che da casa di mio fratello a questa accademia c'era veramente tanta tanta strada da fare con i mezzi di trasporto. Io non avevo mai preso mezzi di trasporto al di fuori della Sicilia fino a quel momento e mi sono resa conto quanto i trasporti di Roma facessero schifo. Io veramente sono stata traumatizzata dai trasporti di Roma, perché veramente c'era il tabellone con gli orari, gli autobus passavano tipo quando volevano loro, l'autista ogni tanto neanche si fermava se non lo fermavi con la mano, più o meno più quello che è successo a Palermo, quando sono andata con il mio miglior amico vi ho fatto anche un video dedicato. E quindi veramente una cosa allucinante e io ogni mattina mi dovevo fare veramente tantissima strada per arrivare appunto da casa di mio fratello a questo posto e io mi ricordo che prendevo due autobus e ci stavo più o meno un'oretta, un'oretta e mezza per arrivare a destinazione, veramente tragitti allucinanti, però lo facevo veramente con tanta passione perché andavo a fare una cosa che mi piaceva, inoltre il nostro insegnante, eravamo due le ragazze che facevano il corso, il nostro insegnante era molto molto simpatico, la ragazza era veramente molto gentile, molto carina, e quindi in realtà io facevo tutto con estrema serenità e voglia di fare ovviamente, e quando io non ero a lezione quello che facevo era andare a Villa Borghese, perché mio fratello abitava vicino Villa Borghese, che è una villa meravigliosa di Roma, e mamma mia che bello questo colore, e praticamente andavo lì a correre, facevo un po' di corsa, un po' di camminata, e facevo un po' e un po', alternavo un po' di corsa e un po' di camminata, mi piaceva, ero molto sportiva in quel periodo, cosa che non è molto da me, però vabbè, e mi è capitato una volta che praticamente io stavo tornando a casa, quindi avevo finito di correre, stavo tornando a casa, un caldo che neanche ve lo sto a spiegare, perché agosto a Roma io non lo auguro neanche al mio peggior nemico, e a un certo punto, mentre camminavo, avevo le mie cuffiette, il mio cellulare, tutto quanto, mi si affianca un signore, non era vecchissimo, avrò avuto tipo una quarantina d'anni, un ragazzo dai, io però ero piccolina, avevo 18 anni, appena compiuti da poco, e quindi nulla, mi si affianca questo signore, oh oh oh, che ho fatto qui? e inizia a parlarmi, e praticamente questo, continuo a chiamarlo signore, ma era un ragazzo, questo ragazzo lavorava per una compagnia di treni, tipo Italo, Frecciarossa, queste cose qua, perché aveva proprio la divisa da treno, e poi aveva lo zainetto, no lo zainetto, la valigetta, e praticamente stava attraversando Villa Borghese per andare non so dove, comunque non so se avete presente Villa Borghese, però è una villa molto molto grande a Roma, e ha diverse diverse uscite, e ogni uscita porta ad una, porta, porta ad una via diversa, è molto grande, e quindi lui era lì che stava attraversando la villa, e a un certo punto si ferma, mi inizia a parlare, ad attaccare il bottone, ma in una maniera assolutamente spudorata, io me ne fregava meno di zero, io volevo tornare a casa a fare da mangiare, e quindi a un certo punto mi chiede il numero di telefono, ma proprio, ma in una maniera proprio, cioè spudoratissima, si vedeva che io ero interessata a meno che zero, però nonostante tutto, questo qua, vabbè, aveva attaccato il bottone, bla bla bla, io mi ricordo che il numero gliel'ho dato, ma ovviamente era un numero falso, non era il mio vero numero, anche perché non avevo la minima voglia, né intenzioni di avere questo qui che mi tampinava anche nei messaggi, e poi per fortuna abbiamo preso strade separate perché lui era uscito da una parte, io stavo ancora dentro la villa cercando di stare nella parte più affollata, perché almeno così, se succedeva qualcosa, c'erano un sacco di persone intorno a me, e quindi tutto molto tranquillo in realtà, e questo qui è stata una delle esperienze che mi ricordo più particolari a Roma, mentre un'altra, questa meno simpatica in realtà, praticamente io ero sull'autobus, stavo andando come il mio solito verso, era una università diciamo, questa accademia università, e stavo andando appunto verso questa accademia per fare il mio corso normalissimo, come ogni giorno, ed ero nell'autobus, e io mi tenevo ai pali, i classici pali che ci sono dentro gli autobus per reggersi in piedi, e a un certo punto mi si affianca anche qui un signore, questo qui non aveva 40 anni assolutamente, era molto più grande, avrei avuto l'età di mio padre, una sessantina d'anni, e anche questo signore si appende dal mio stesso palo, quindi io avevo la mia mano, e la mano di questo tipo era leggermente più alta della mia, man mano che l'autobus cammina, la sua mano scivola sempre di più verso la mia, fin quando non mi tocca, allora mi tocca la mano, come se mi volesse mettere la sua mano sopra la mia, e io l'abbasso sempre di più, lui l'abbassa sempre di più, era veramente una cosa molto molto scomoda, nel frattempo io mi stavo agitando, quindi stavo sudando tantissimo, dentro l'autobus non c'era l'aria condizionata, quindi un caldo che si moriva, io avevo un vestitino molto corto, molto scollato, faceva caldissimo, ovviamente questa non è assolutamente una scusa per metterti a fare il porco con una ragazzina, perché anche se andavo in giro in bichini, tu non ti dovevi assolutamente azzardare ad avvicinarti a me, però io mi sentivo veramente molto molto a disagio, fatto sta che io mi giravo ogni tanto per cercare di incrociare lo sguardo con qualcuno, e cercare di far capire che mi sentivo in imbarazzo, allora mentre mi giravo e cercavo qualcuno, il mio sguardo incontra quello di una signora, e quindi cerco di parlare con gli occhi a questa signora, la signora capisce un po' la situazione e mi facendo di avvicinarmi a lei, poi nel frattempo per fortuna l'autobus aveva fatto una fermata, il tipo era sceso e vabbè si era risolto tutto così, c'era nulla di, per fortuna nulla di grave, però io mi sono sentita veramente impotente, mi sono sentita molto molto agitata, poi non sapevo se chiamare mio fratello oppure no anche perché un po' mi vergognavo, cioè assurdo, io mi vergognavo di questa cosa, però per fortuna si è risolto tutto abbastanza bene, io sono scesa poi alla mia fermata e sono andata in accademia, queste sono state sicuramente le due esperienze che ho vissuto in maniera un pochino più negativa, diciamo una più dell'altra ovviamente, ok ho finito di applicare il mascara perché altrimenti era impossibile parlare, comunque ho applicato il Paradise Ectetic di L'Oreal, mi piace tantissimo e quindi vi dicevo che praticamente tutto questo che era successo aveva fatto sì che io non scegliessi Roma come città in cui vivere per la mia università. Oggi ho anche deciso di non fare le sopracciglia, ce le teniamo così come sono naturali, perché veramente l'ho vissuta male, l'ho veramente vissuta male queste esperienze, poi veramente il caldo mi ha devastata, io in quel periodo erano i momenti in cui soffrivo di più di pressione bassa, di sbalzi proprio di pressione, quindi mi capitava di svenire di continuo, ogni tanto piglia e mi risvegliavo per terra, e quindi è stata per me da quel punto di vista non proprio una bellissima esperienza, però poi complessivamente mi sono anche divertita tantissimo, a parte questi piccoli momenti un po' così. Mamma mia, un'ora per trovare il mio pennello da contouring. Ah, ok. Adesso utilizzo questa palettina qui di Kiko, comunque vi ricordo che trovate tutto giù nell'info box. Ah, adesso a proposito di makeup, parlando di un altro argomento, sapete che io salto da un argomento all'altro, veramente è una mia caratteristica. Parlando di makeup, volevo fare un ordine in questi giorni sul sito di Makeup4Less, sapete che, se non lo sapete ve lo dico io, è un sito che rivende marchi più o meno costosi, rivende anche Nabla, ho visto, però fra i marchi, diciamo, che mi fanno un pochino più gola, sono Makeup Revolution, alcuni marchi di skincare che non ho mai sentito, c'è anche Essence, se vi interessa, sapete che Essence non è facilissimo da trovare giù in Sicilia, e rivende anche NYX, rivende ELF, rivende diversi marchi, però io per quelli per cui ero più interessata, quelli per cui ero più interessata, sì, si può dire, sono appunto Makeup Revolution, la linea skincare di Makeup Revolution, anche la linea Makeup, Catrice, mi interessava provare il fondotinta di Catrice, e Nabla, vabbè, se voglio comprare Nabla lo compro sul sito loro, però veramente hanno diversi diversi marchi, inoltre hanno anche tantissime cose di skincare, infatti io ho intenzione di comprare diversa skincare sul sito, ho intenzione di fare un ordine, un haul bello bello ciccioso, ovviamente poi vi farò il video, perché veramente, sono veramente molto 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 curiosa, ui ui ui, un capello, ero molto interessata a comprare la skincare, perché uno, io amo fare la skincare, penso che io amo il makeup, amo tantissimo il makeup, ma la skincare mi piace molto molto di più, perché proprio mi piace prendermi cura della mia pelle, è una cosa bellissima secondo me, e quindi, a parte il fatto della mia, diciamo, del mio essere fanatica con la skincare, la cosa che mi interessa tantissimo, è riproporre quei video, che si vedono tantissimo in giro, tipo, seguo il makeup tutorial di Hilary Duff, seguo la sessione di makeup di Madeleine Patch, che è l'attrice di Riverdale, sapete che ci sono tutti questi video, di questi youtuber, di questi influencer, che seguono le varie routine, dei big famosissimi, vi ascio qualche immagine per capire, tutti sul canale di Vogue, e volevo iniziare da praticamente tutte le celebrità di Riverdale, quindi, da Madeleine, da Lily, da Camilla, e poi adesso hanno fatto anche, la makeup routine di Hilary Duff, quindi Lizzie McGuire, e quindi sono molto molto curiosa, questa diciamo idea di fare questi video, me l'ha data Basic Gaia, se non la seguite, è una youtuber, che secondo me è una tra le mie preferite, è dolcissima, è bellissima, è verissima, proprio vera, 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 una bella ragazza, e lei fa spesso questi Basic Vogue, e mi sono detta, anche io voglio provare a fare questi video, ok, vai di illuminante, io utilizzo quasi sempre questa palettina qui, di High Earth Revolution, e questo illuminante è meraviglioso, è meraviglioso o no, è bellissimo, lo paragonano tantissimo, a Crown di Nabla dovrebbe essere, è veramente bellissimo, è stupendo, e costa pochissimo, perché all'interno avete sia l'illuminante, cioè guardate che bello, avete sia l'illuminante che la terra, e questo è stupendo, hanno fatto diverse linee così, sia con gli illuminanti, sia con i blush, io credo che tutta la linea di Makeup Revolution sia stupenda, veramente cose di altissima qualità, ad un prezzo veramente assurdo, al prezzo secondo me che il Makeup veramente dovrebbe avere, diciamo che è un Makeup accessibile a tutti, io amo le palette di Huda Beauty, amo le palette di Clio Makeup, amo le mie palette super costose, magari le Naked, però quando trovo delle cose che costano poco, e che siano super super performanti, mi sento molto molto felice, ho anche messo il gloss, ho utilizzato questo qui di Sephora, ha tipo 2000 anni, dovrei anche buttarlo, ma non ho il coraggio, e il numero, se riesco a leggere, è Fresh 07 Peach, ed è praticamente questo glitterino rosato stupendo, veramente bellissimo, e nulla, il video si conclude qua, io spero che vi sia piaciuto, che vi è ben trattenuto, spero di aver rifatto tanta tanta compagnia, voi sicuramente ne avete fatta a me, inoltre spero anche che questo make up super semplice, vi sia stato l'ispirazione per fare qualche altro make up anche voi, ha senso la frase che ho detto? Spero di sì, e nulla, io vi mando un bacione, e noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video, ciao! 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 Ciao!